Amici 2023, Mattia smascherato da Umberto per suoi capricci, i fan, viziato e montato. Mattia viene smascherato all'interno della scuola di Amici 2023 per i suoi capricci e i suoi modi di fare. A puntare il dito contro il giovane ballerino del team guidato da Raimondo Todaro è stato l'insegnante Umberto Gaudino che durante la settimana, si occupa di preparare gli allievi in vista della puntata del serale. Umberto non ha risparmiato un furioso attacco nei confronti del giovane Mattia e questa volta, il pubblico del talent show si è schierato contro il ballerino. Nel dettaglio, Umberto ha puntato il dito contro Mattia svelando pubblicamente i capricci e i malumori che il ballerino si porterebbe con sé in sala prova per la preparazione delle coreografie del serale. Non sei mai contento, è tutto brutto quello che fai. Non ti piacciono le musiche. Hai problemi sui passi. Da parte tua non c'è mai un approccio positivo, ha sbottato Umberto puntando il dito contro il giovane ballerino del team di Todaro. Devo parlare con un ragazzino che sta sempre a guardarsi e questo mi fa girare le scatole. Non ascolti le mie correzioni e per me quello è mancanza di rispetto, ha proseguito ancora Umberto. Deluso e amareggiato dall'atteggiamento di Zenzola. Sono arrivato al limite, perché mi aspetto una persona che mi aspetta col sorriso e voglio di fare. Credo in te ma il tuo modo di fare mi dà noia, perché sai cosa penso di te come ballerino. Ha chiusato Umberto al cospetto del giovane allievo. Sta di fatto che, questo duro rimprovero da parte di Umberto nei confronti di Mattia non è passato inosservato agli occhi dei fan. Molti dei quali si sono schierati in difesa del prof puntando il dito contro il giovane allievo della scuola di Maria De Filippi. Ormai è chiaro che Mattia si è montato la testa e si sente già un ballerino professionista a tutti gli effetti. Solo perché osannato dal pubblico, ha scritto un utente sui social attaccando il giovane ballerino del team di Raimondo Todaro. Mattia ha davvero rotto con il suo modo di fare. Non ho mai visto Umberto così furioso. Ha sentenziato qualcun altro commentando la scena. Umberto non ha ragione, di più. Mattia è viziato e montato, ha scritto ancora un altro fan del talent show di Maria De Filippi commentando la scena trasmessa nel corso del day team e di questo pomeriggio. Ho sempre pensato che Mattia fosse un ragazzino immaturo, ma non credevo fino a questi livelli. Ha aggiunto ancora un altro commentatore social di Amici 2023. Grazie. 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 Grazie.